Vivi semplice, vivi digitale con Intesa San Paolo. Scopri come eseguire in modo semplice e veloce una ricarica cellulare sul sito della tua banca online. Entra inserendo i tuoi codici personali. Digita Ricariche nella barra di ricerca Cosa posso fare per te? O scegli la voce dal menu Operazioni rappresentato dal simbolo Euro. Una volta entrato nella sezione, scegli l'operazione Ricarica cellulare. Inserisci il numero di cellulare oppure cercalo nella rubrica. Scegli l'operatore telefonico, l'importo e continua. Prima di procedere, verifica nel dettaglio di aver inserito le informazioni corrette. Poi, inserisci il codice O-Key e conferma per concludere la ricarica. In ogni momento puoi controllare il riepilogo della ricarica nella sezione Archivio. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, consulta le domande frequenti. Parla con la filiale online oppure scrivici su Facebook o Twitter. Guarda anche gli altri video. Sottoscrivi il contratto MyKey. Aderisci ai servizi a distanza. E vivi il mondo digitale. Scarica anche l'app La Tua Banca. Per entrare nella Tua Banca online dal tuo smartphone e tablet. Il riepilogo della ricarica nella sezione Archivio. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, consulta le domande frequenti. Parla con la filiale online oppure scrivici su Facebook o Twitter. Guarda anche gli altri video. Vivi semplice. Vivi digitale con Intesa San Paolo. Scopri come eseguire in modo semplice e veloce una ricarica cellulare sul sito della tua banca online. Entra inserendo i tuoi codici personali. Digita Ricariche nella barra di ricerca Cosa posso fare per te. O scegli la voce dal menu Operazioni rappresentato dal simbolo Euro. Una volta entrato nella sezione e continua. Prima di procedere, verifica nel dettaglio di aver inserito le informazioni corrette. Poi, inserisci il codice O-Key e conferma per concludere la ricarica. In ogni momento, puoi controllare Scegli l'operazione Ricarica cellulare. Inserisci il numero di cellulare oppure cercalo nella rubrica. Scegli l'operatore telefonico L'importo Scegli la voce dal Scegli l'operatore